Andrea brucia tutto, la città federiciana, risponde all'appello di Elena Cecchettin, sorella di Giulia, ultima vittima di femminicidio in ordine di tempo in Italia e si colora di rosso. Per arrivare a tutte quelle donne che non riescono a riconoscere quelli che sono gli atteggiamenti di violenza, che non è solamente il sangue versato, ma sono tanti piccoli atteggiamenti che potrebbero essere campanellini d'allarme. Un flash mob promosso da CGL e BAT, attinto del colore del sangue versato dalle donne vittime di femminicidio, piazza Catuma e le vie del centro. Le vetrine dei negozi, i cappelli della gente, i cappotti dei bambini, le labbra delle ragazze. Probabilmente se si chiede qui alle persone che sono presentite stasera, tutte quante, almeno una volta nella vita che sono stata una violenza, una molestia, non sono state ascoltate, ma sono state credite. Quindi sicuramente c'è l'espressione di una rabbia contenuta per il momento. Noi siamo a molto potenza da me, però sì c'è l'espressione di una rabbia di rossi, soprattutto per questi episodi che sono parecchio frequenti. Una questione che dovrebbe essere affrontata da Boulbattè, giorno dopo giorno, è cercare di dare questa educazione che secondo me è civica prima di tutto. A fare rumore ci hanno pensato i momomurga per un flash mob nel flash mob che fosse più sonoro delle promesse sinogini disincantate. Vogliamo chiedere scusa perché siamo nati in un momento storico in cui il patriarcato è rimasto a dei livelli. Il carico della famiglia non è delle donne, è della famiglia. Non riconoscere anche questo è sintomo di tutto quello che ancestralmente noi donne abbiamo immagazzinato.